Eccoci ritrovati insieme in diretta dall'Istituto di San Giovanni Rotondo per parlare, continuare a parlare di Mondo Scout e degli importanti anniversari di questo 2024, in maniera particolare per la GESCI, cinquantesimo anniversario che celebriamo qui oggi con il presidente nazionale a GESCI, Francesco Scoppolo, e con il capoguida di Italia, la cara Daniela Ferrara. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Buongiorno. Come state? Tutto bene? Bene, grazie, molto bene. Molto bene, grazie. Grazie a voi per averci dedicato il vostro tempo stamattina, siamo davvero felici di parlare del Mondo Scout e del cinquantesimo anniversario della GESCI, ecco insieme adesso andremo a scoprire un po' questo mondo che per generazioni ha accompagnato tante ragazze e ragazze a diventare uomini e donne del nostro tempo, un po' con senso di responsabilità, rispetto per il prossimo e per l'ambiente. Spero di aver sintetizzato bene un po' quella che è la vostra mission. Assolutamente, sì sì. Abbiamo un pelino di ritardo nel comunicare, però l'importante è che ci capiamo. Allora, partirei proprio da questo importante anniversario, Presidente. Introducici in questo bellissimo mondo e in questa festa che vivremo quest'anno. Allora, sì, grazie, grazie a voi di tutto. Proprio due parole in breve per dire che 50 anni che noi quest'anno ci apprestiamo a compiere come anniversario, sono 50 anni di storia, sono 50 anni in cui noi non solo ragioneremo su quella che è la nostra storia, ma capiremo anche come le peculiarità che lei ha poco fa precisamente descritto possono essere realmente portate nel mondo di domani. 50 anni è una festa, quindi un aspetto sicuramente aggregativo, comunitario, ma anche 50 anni per riflettere sul valore dell'ambiente, della presenza sociale nei territori, della cittadinanza attiva, di un impegno che sia responsabile ma che sia concreto. Lo scautismo è un metodo attivo e richiede partecipazione, non richiede semplicemente delle attività lasciate a se stesse, ma richiede appunto la creazione di buoni cittadini, come diceva lei, per educare i ragazzi di oggi a essere appunto cittadini del domani. Grazie, ecco, quanto abbiamo bisogno oggi, nonostante il progresso che c'è stato negli ultimi anni, nonostante il fatto che siamo effettivamente tutti molto più connessi, ma paradossalmente forse un po' distanti. Ecco, quanto è importante il mondo dello scautismo oggi? Sì, l'esperienza della scout oggi per i ragazzi da età di 8 e 21 anni è un'esperienza formativa fondamentale. È fondamentale perché permette di vivere l'esperienza della fraternità e della comunità, per cui lo stare insieme per noi è un valore fondante, che in tutte le fasce d'età, dagli 8 ai 11, dai 12, ai 15, alle 16 e ai 21 anni, i ragazzi vivono. Questo veramente credo che sia il valore aggiunto in tutto ciò che facciamo. E permette di far vivere ai ragazzi non soltanto l'esperienza della comunità, ma la possibilità di formare il proprio carattere in base anche dei valori fondanti che l'associazione propone. Per cui oggi tutto questo ha un valore fortissimo, ma ha un valore fortissimo anche l'esperienza che viviamo all'interno della nostra associazione, delle nostre attività che facciamo con i ragazzi, l'essere uomo e l'essere donna. Oggi crediamo che c'è una necessità fortissima di far vivere ai ragazzi la propria costruzione, della propria identità attraverso appunto dei valori fondanti. Sì, ecco, poi ai noi tante volte negli ultimi tempi ci rendiamo conto, stando anche a quelle che sono le notizie che giungono purtroppo tante volte quotidianamente nelle nostre case attraverso i notiziari, quanta strada bisogna ancora fare per recuperare il rispetto verso noi stessi e verso gli altri, soprattutto per la figura femminile e il mondo scout da questo punto di vista è sempre stato in prima linea. L'importanza, dare la giusta importanza all'altro e anche valorizzare la figura femminile. Sì, noi quest'anno abbiamo celebrato gli 80 anni dell'Associazione Guida Italiane. il 28 dicembre del 1943 la prima squadriglia femminile pronunciò la sua promessa nelle catacombe di Priscille, quest'anno l'abbiamo ricordato e rinnovata, per noi fondamentale perché permette appunto di affermare che è necessario oggi ridare a ciascuno di noi il ruolo sia al maschile sia al femminile. Le donne dell'AGI già nel 1943 affermarono proprio questo, l'importanza con coraggio e con determinazione di essere membro attivo nella società e nella chiesa. Grazie. Ecco, Presidente, stavamo dicendo prima, viviamo un'epoca moderna, ultra digitale, siamo sempre più connessi ma paradossalmente tante volte ci ritroviamo soli. Quali sono le sfide che secondo lei il mondo scout, la GESC in particolare, deve provare a vincere nei prossimi anni? Ma guardi, sicuramente partendo da quello che lei ha detto, viviamo in quest'epoca e questo non è più eludibile, cioè il fatto di partire dal fatto di essere in un'epoca iperconnessa in cui i social hanno un peso specifico anche nella costruzione della relazione, della comunicazione, molto importante e noi dobbiamo prenderlo, ripeto, in considerazione. Quello che secondo noi è importante è esattamente, non per rimanere nostalgici, ma per capire come il nostro metodo oggi sia strettamente attuale, le faccio un esempio, andare di notte con i ragazzi, con la squadriglia a vedere le stelle o produrre un'uscita in tenda, magari in un campo che sia un po' isolato dalla città, quello secondo noi è comunque una risposta al mondo del mondo, perché ti consente di vivere in pratica una contemplazione di due costanti che, come dire, non sostituiscono i social, assolutamente, ma fanno vedere come i social possano essere per un certo momento eliminati. Quello che è importante è mettere al centro i social come quella capacità di costruire relazioni che però siano sane, che siano autentiche, tra scout, tra mondi, tra persone che si trovano in quel momento particolarmente magari distante. Quindi raccogliere la sfida dei social, sapendo che non è eludibile e non deve essere minimamente criminalizzata, ma fare in modo che quella sfida sia a servizio dell'educazione, sulla quale ci si deve ovviamente interrogare. È molto bella la riflessione che ha appena fatto, tra l'altro assolutamente condivisibile e questi sono strumenti, ecco, quelli che utilizziamo oggi, quindi il modo in cui vengono utilizzati dipende esclusivamente da noi, quindi condivido la riflessione e purtroppo il tempo vola in tv, siamo già, arrivati alla conclusione di questa chiacchierata, però non voglio salutarvi prima di recuperare anche un altro tema molto, molto d'attualità e molto importante che è quello del rispetto dell'ambiente. Gli scout da sempre sono quelle persone che ci hanno insegnato a guardare l'ambiente in cui viviamo con un occhio diverso. Ecco, come continuate a farlo oggi, anche con gli strumenti che abbiamo a disposizione e in maniera particolare con tutti i problemi che ancora ci sono legati all'inquinamento, all'aumento delle temperature e quindi insomma a queste altre sfide globali che non possiamo più ignorare. Sì, per noi la natura è un ambiente educativo dove proponiamo all'interno di questo le esperienze ai nostri ragazzi, per cui non è soltanto qualcosa da rispettare e da tutelare, ma proprio è un ambiente dove i ragazzi fanno le esperienze. Per noi questo è importante perché ci permette di mettere in contatto con se stessi, conoscendo i propri limiti, ci fa fare esperienze appunto di comunità, ma anche di rapporto con Dio. E in più credo che oggi un impegno fondamentale appunto di tutta l'associazione, ma a partire dal punto dei ragazzi, è proprio l'impegno alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. Questo ci si sta lavorando già da parecchio tempo. L'anno scorso anche l'associazione, i ragazzi dell'11 e 16 anni hanno lavorato parecchio su esperienze e sostenibilità in tutti i territori, dove sono venute fuori veramente da parte dei ragazzi delle esperienze molto interessanti che stanno cercando appunto di portare avanti nei propri territori, nei posti lì dove operano. Allora direi avanti così, avanti tutta e con l'augurio soprattutto in quest'anno che tagliate questo traguardo così bello, così importante, di continuare a fare sempre di più e se possibile sempre meglio, anche se so che state lavorando già ai massimi livelli, però perché limitarsi? Avete tra l'altro anche un bellissimo sito come a Gesci Nazionale e invito i nostri amici telespettatori a tenersi informati, ecco lo stiamo vedendo alle mie spalle, presto anche a tutto schermo, dove potervi restare aggiornati e informati su tutte le attività del mondo scout, sicuramente Presidente comunicate le vostre attività anche sui social, vedo Twitter, Facebook, per cui ecco utilizziamo questi strumenti in maniera consapevole, intelligente per diffondere bellezza e buone pratiche. Grazie mille veramente, grazie anche della splendida pubblicità, ecco diciamo così, grazie mille. Grazie, grazie a tutti. Vi meritate, vi meritate questo ed altro, speriamo di ritrovarvi in quest'anno che sarà così importante per voi, per cui non fateci mancare notizie, aggiornamenti e faremo in modo di riproporle a tutti coloro che ci seguono da casa, per cui grazie ancora a voi e tanti cari auguri per il vostro anniversario. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.